Questo mi mette in forte difficoltà, però ho visto che Mogol mi ha dato ragione, quindi riesco ad aprire un dibattito anche in ambito musicale e poi oggi per quello che mi riguarda la musica è Fabrizio De Andrè, altri cantanti, altri poeti oggi non ne conosco. Ti so citare tutto. Martedì sono alla festa della giustizia, però di un giudice parliamo da mercoledì in poi. Sì, però sono preparato. Ma che cosa gliene frega la gente cosa guardo io in tv? Ribadisco che non guardo Juve Milan, poi... Guarda che gliene frega la gente, guardo Sky Pesca, 2-3-6.